Ecco, una volta Magnaco mi disse, stavamo cercando il nome della nostra provincia, quella pensa di Eczan, la terra dell'Agile, no? Io mi ricordo che il Presidente mi aveva sternuto una parola, e lui diceva, ha ragione, questo qui si chiama, questo è tirolo, che non mi vuole cambiare, e sono molto contenta di poter dire di me stessa che Bogotten is mine, Valheimatio Gordon, anche se so che la Heimann non si può fare, ma Goethe ha scritto un romanzo di Val, per Val Schatten, e anche lì per Val Schatten non si possono fare, quindi vuol dire che il linguaggio è uno strumento, non un obbligo, il linguaggio è una cosa straordinaria, proprio perché ha regole, ma non sono obbligatorie.